Ciao a tutti, sto tornando a casa per Natale, sono appena partita. Per chi ha già ascoltato l'episodio del podcast di martedì, lo sa già, sto facendo una sorpresa alla mia famiglia per Natale, quindi loro non lo sanno che sto tornando a casa. Questi sono i paesaggi meravigliosi che si possono vedere dall'Austria all'Italia viaggiando in macchina e semplicemente mi lascia senza parole. Queste meravigliose montagne innevate. Tra l'altro questo è il Liechtenstein. Per chi si fosse mai chiesto com'è il Liechtenstein, ovviamente non cambia completamente attraversando il confine, molto simile. Queste sono le stradine della città, di una città, del Liechtenstein. Come vedete è tutto abbastanza normale, questa è una rotonda. E tra poco attraverseremo il confine con la Svizzera invece, quindi tra poco entreremo in Svizzera. Ecco qua le bandiere, la bandiera sinistra e la bandiera svizzera, quindi siamo ufficialmente entrati in territorio svizzero. per passare il tempo mi sono portata l'uncinetto e della lana, giusto per fare qualcosa. E qua in Svizzera si vede molta più neve, perché siamo saliti di quota, quindi siamo un po' più in alto, e quindi è tutto ricoperto di neve qui. Siamo quasi arrivati finalmente, dopo quattro ore, e questa è la scatola che ho preparato con scritto Buon Natale per fare la sorpresa. Buon Natale! La sorpresa è riuscita benissimo, come avete visto, e ovviamente Patata è anche qua con noi a festeggiare il Natale. Queste sono alcune delle cose che mia mamma ha preparato, come vedete degli antipasti, delle verdure, la carne, ovviamente altre verdure, c'è un po' di tutto insomma. Anche i miei gattini sono qua a godersi il Natale, che ronfano, che dormono. Buongiorno! A parte la micia nera, che lei ha sempre paura delle persone, ed è scappata, si sta nascondendo da qualche parte. E invece Patata dorme. E questo è il nostro bellissimo albero di Natale, è enorme, con alcuni regali qua sotto, questi regali già impacchettati, incartati, e non lo so, è pieno di palline strane, decorazioni strane, come vedete c'è un po' di tutto qui, dei candelabri, un colibri, un angelo, delle stelle, dei fiori, veramente c'è un po' di tutto. A mia mamma piace comprare queste decorazioni un po' strane, un po' particolari, e mio papà le mette tutte in ordine con una precisione impossibile. Il pandoro è solo per i poveracci. Il pandoro è esatto, è qualcosa che va bene. La vera, la vera. No, niente, lo ve lo metto, tutto poi. Il pandoro è solo per i poveracci. Il pandoro è sempre per il pasto. E' un pochino, poi chiudi di nuovo lo spazio. E' un pochino, poi chiudi di nuovo lo spazio. E' un pochino. E' un pochino. Adesso che non vanno più veloci, poi lo dico, ma non sai chi lo stava bene. Ettore gli fa fare. C'è anche chi non sia invitato. Il lasso, Ettore. No, no, finché sì. Ettore si anche comincia. Ettore sì, fallato. No, no, no. No, va bene. Non l'ha nebicato bene. La carretta? No, no, no. Metà e metà. No, io la faccio solo di panettone. Allora, comincio con Mimmo. Ma così? Eh, madonna. Davvero, Elena? Sì. Nel caso fa il bis. Nel caso fa il bis. Che tristezza. Con la cremina. Sopra o di lato? Io ho tanta cremina, grazie. Ok, grazie. A Giammi gli diamo anche questa. Cavoli, potremmo portare la siringa per dolci. Se la taglio al contrario o hai voglia? Al bicchiere facciamo cincin, tutto il mondo fa cincin, alzando il bicchiere di lì, cincin. Buongiorno! 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 Puongiorno! Buongiorno! Grazie a tutti.